Come si concilia la vostra ipotesi di omicidio di impeto con le due ferite riscontrate sul corpo di Cialini? Due ferite non sono intanto indicative di una reiterazione e quindi di un omicidio di natura diversa. Noi riteniamo che il colpo sia stato uno al di là delle due ferite e riteniamo soprattutto, circostanza che andrà valutata con particolare attenzione, che l'uso del coltello sia stato tangenziale e non perpendicolare rispetto al corpo del Cialini. Riguardo al primo interrogatorio, noi difensori abbiamo lamentato una carenza piuttosto grave, che il primo interrogatorio non sia stato così come doveva essere fonoregistrato e che esista soltanto un verbale di natura riassuntiva. Nel secondo interrogatorio, quello di Convalida e tenuto dinanzi al GIP, ripeto, il di Silvestri ha reso una spiegazione che mi sembra sia sostanzialmente conforme allo svolgimento dei fatti. Cosa le ha detto? Conosceva Cialini già da prima? Lo ha escluso. Ha escluso di conoscere Cialini, ha ribadito, anche perché la fuga di notizie che si è avuto ha portato a raccontare tutta una serie di notizie false, che lui non ha inseguito il Cialini, ma si stava recando da un cliente e quindi ha preso la stessa marcia del Cialini dopo l'incrocio, la stessa direzione del Cialini, proprio perché si stava recando da un cliente che abbiamo indicato agli inquirenti e che ascolteremo anche noi in sede di indagini difensive. Adesso il GIP dovrà depositarci tutte le carte che ritiene siano a sostegno dell'ordinanza di misura cautelare che ha assunto. Da quello poi desumeremo le eventuali iniziative. La perizia prosegue intanto l'eventualità di un ricorso al Tribunale del riesame e l'esame di alcuni testimoni, alcuni li abbiamo già individuati, per fare chiarezza su quelli che si ritengono, ma non sono punti oscuri della storia.